Il programma del candidato a sindaco di Cosenza, Mario Occhiuto, riserva un'attenzione particolare alle politiche sociali e al mondo della disabilità. L'urbanista cosentino quotidianamente sta raccogliendo istanze e proposte che vengono sollevate dalle diverse associazioni di volontariato. Nel corso di un incontro con i volontari dell'Aism, Associazione Italiana Sclerosi Multipla, Mario Occhiuto ha ascoltato dalla voce della Presidente il racconto della meravigliosa esperienza dei volontari che supportano le famiglie e i malati di sclerosi multipla, tutelandoli principalmente in quelli che sono i loro diritti. La Presidente Alessandra De Rosa ha sottolineato che l'Aism promuove la ricerca in ogni angolo del territorio. Il loro operato per far sì che vada a buon fine e sia efficiente non può assolutamente prescindere da rapporti costanti con le istituzioni locali e nazionali. È un incontro doveroso da parte nostra perché se noi non abbiamo i rapporti con le istituzioni siamo finiti perché noi lavoriamo con le istituzioni, dobbiamo lavorare con le istituzioni, non facciamo assistenzialismo assolutamente e noi ci sostituiamo alle istituzioni ma lavoriamo insieme alle istituzioni. Mario Occhiuto durante il suo intervento ha esposto il primo punto del suo programma, la creazione di una città solidale che prevede spazi di relazione e garantisce il diritto alla salute e a una buona qualità della vita a tutti, in modo particolare alle persone disagiate. La città ideale deve andare incontro ad un'utenza allargata eliminando le barriere architettoniche. Mario Occhiuto ha poi affermato che un'amministrazione comunale seria dovrebbe offrire un supporto costante a queste straordinarie e indispensabili associazioni di volontariato. Io ho inserito nel mio programma come primo aspetto e come primo punto programmatico quello della città solidale, che non esiste un progresso vero in una città se non c'è la solidarietà, se non c'è un'attenzione verso le politiche sociali. Quindi bisogna fare più scuole e le scuole devono essere qualificate, devono essere inserite nel verde, devono essere curate, a selinito, devono esserci i servizi per gli anziani, devono esserci i percorsi pedonali, le piste ciclabili, devono esserci i servizi alle persone qualificate. Bisogna mettere a rete, secondo quello che è già nella norma della 328, tutti i servizi sociali in modo tale che si possa creare un sistema anche di politiche che sono svolte dall'associazione di volontariato, che possono dare per il principio di susserietà insieme al Comune un sostegno a tutte queste fasce di popolazione che vivono in condizione di disagio. L'urbanista Cosentino ha poi incontrato i candidati della lista ai moderati, capeggiata da Piercarlo Chiappetta. Il capolista dei moderati ha sottolineato che tutto il centrodestra, in maniera compatta più che mai, ha individuato nella professionalità di Mario Occhiuto l'unica strada per rilanciare in maniera radicale Cosenza. Questa lista che si chiama i moderati è una lista che anche nel nome esprime al meglio quello che è anche la caratterizzazione che noi abbiamo dato a questa campagna elettorale, che è una caratterizzazione puntata soprattutto sui contenuti, sulla possibilità di confronto con i cittadini per trasmettere le nostre idee che sono idee che non vogliamo gridare ma sono idee che siamo sicuri di poter realizzare, realizzeremo in poco tempo, trasformando questa città rendendola più bella, più accogliente, più solidale, più sicura e soprattutto più sostenibile. Il candidato a sindaco di Cosenza, Mario Occhiuto, a conclusione di un'intensa giornata, ha partecipato alla festa organizzata dall'Avad, storica associazione cosentina, finalizzata alla socializzazione e alla integrazione delle persone affette da disabilità. Noi assistiamo questi ragazzi tre volte alla settimana, presso la terza circoscrizione di Cosenza e in questi pomeriggi noi intratteniamo questi ragazzi in attività varie, soprattutto curiamo la comunicazione globale, che è un modo di far uscire questi ragazzi dal loro isolamento. Grazie a tutti.